Sapevi che in Puglia ha aperto una pizzeria che fa la pizza più grande del piatto? Sì, avete capito bene, perché a Foggia ha aperto una pizzeria a scuola Enrico Porzio. Stiamo parlando ovviamente di Maccò Pizzeria Napoletana. Il locale è bellissimo, super colorato e curato nel minimo dettaglio. Ma andiamo al dunque, perché questi crocchettoni di patate ripieni di porchetta croccante e burrata erano veramente da sentirse male. Le frittatine probabilmente, sia quella classica che quella carbonara, tra le più buone mangiate in vita mia. Raga, erano perfette, ve lo giuro, perfette. Ma quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E pizza margherita, cotta alla perfezione, con impasto super scioglievole e condimenti di altissima qualità. Ovviamente a noi ci piace esagerare, e quindi pizza poker. Doppio cornicione, uno ripieno di porchetta e patate, l'altro ripieno di salsicce e frierelli. Al centro, margherita con ovoline di bufala. Ma che voti che fa? Ognuna di queste fette pesava un etto, però era un etto di puro godimento. I dolci fatti in casa sono la vera e propria ciliegina sulla torta. Insomma, se passate dalla Puglia e vi volete mangiare una pizza seria, fate un salto da macò, ma prima seguitemi e salvate il video. Bella.